pubblica, che con una lettera ufficiale ha ringraziato gli artisti per il loro impegno. Mare di Mezzo, ultimo album interpretato dalla carismatica voce di Anna Maria Castelli, raccoglie nove canzoni che parlano dei problemi del Mediterraneo. Questo è un album che ha scritto sia nelle parole che nelle musiche Paolo Bergamaschi. Lui da anni con competenza tratta questi temi sul Kosovo, sul Mediterraneo e ha fatto praticamente nove istantanee dedicate a paesi, quindi c'è un brano che tratta Corfu, un altro brano che tratta il problema di Cipro e un altro che parla delle religioni. Canzone d'autore impegnata a un viaggio in musica fra le sponde del nostro mare, alla ricerca di un possibile dialogo fra popoli e culture diverse. Secondo me questo tipo di disco raccoglie un po' l'eredità di quella che è stata una grande scuola legata a Fabrizio De Andrè, ma che comprendeva anche Gino Paoli, Bruno Lauzi, adottato Paolo Conte. Io oltretutto ho fatto molto volentieri, ho interpretato molto volentieri questo disco proprio perché io ai cantatori della scuola genovese avevo dedicato un altro CD che si chiamava C'est toujours la même chanson. CD tradotto in diverse lingue, lituano, ebraico, arabo e che va al suo Adanna Maria Castelli l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. E proprio per aver portato la canzone d'autore genovese in giro per il mondo, il Comune di Genova le ha fatto un grande regalo. Com'è finita nelle vostre mani la chitarra di Fabrizio De Andrè? Eh beh, questa è stata una concessione gentilissima del Comune di Genova, c'è una bellissima mostra dedicata a D'Andrè che è stata prorogata fino al 21. Ma quella era la chitarra che era in mostra? Quella era la chitarra che era in mostra, l'hanno tolta un attimo, ce l'hanno data e domani mattina gliela dobbiamo assolutamente riportare. E proprio come spesso faceva De Andrè, le nove canzoni di Mare di Mezzo sono impostate sullo stile della ballata. Se dovessi scegliere tra queste nove una canzone che più rappresenta il cd, quale sceglieresti? Quella a cui io sono più legata è Simone, che era una canzone molto bella dedicata alla crisi ittica. Si è rampica, leziosa, impertinente, sfiorando sulle scale. La nota di colore che è un vecchio pescatore appisolato sul mare. Loия di Mare di Mezzo